Salve a tutti Blazers e bentornati nella serie di sopravvivenza Eccoci qui nella nostra nuova costruzione nascente, vale a dire i giardini pensili di Kalos Non di Babilonia, perché qui siamo a Kalos Sono tornato, come sapete negli ultimi episodi vi dicevo che erano episodi pre-registrati, eccetera, eccetera Ora sono tornato a casa, purtroppo, come sentirete forse dalla voce, leggermente Sono ancora influenzato ed è una gran rottura di palle perché tipo continuo a tossire E spero di non dover stoppare troppo le clip del video E fare tagli per i colpi di tosse come mi è appena successo, per esempio Comunque ragazzi, sono tornato e ho potuto leggere i vostri commenti agli ultimi video In particolar modo per quanto riguarda la costruzione che stiamo facendo Perché l'ho iniziata in episodi pre-registrati, quindi non avevo idea del vostro feedback E ora ho potuto avere una mezza idea e leggere un po' di cose Allora ragazzi, innanzitutto sono contento perché ho visto che vi sta piacendo Non è un problema la dimensione, non è un problema l'ubicazione, vi piace e basta Effettivamente da un bellissimo colpo d'occhio Ed è qualcosa di nuovo, perché mancava qualcosa qui Quindi ci sta, sono davvero contento E mi avete dato un sacco di consigli In particolar modo mi avete detto Eren, metti l'acqua Ci vuole dell'acqua da qualche parte Fontane, cascate, mi avete detto qualsiasi cosa inerente all'acqua Quindi sapete che c'è? Metteremo dell'acqua Metteremo dell'acqua anche perché i veri giardini pensili Avevano dei sistemi di irrigazione davvero importanti Per l'epoca erano tecnologie molto avanzate si può dire Quindi ci sta mettere qualcosa che non sia tecnologico Ma che in qualche modo vada a citare questo loro funzionamento A parte ciò ho iniziato a chiudere il tetto qui Per farvi vedere che ho messo qui e là della cobblestone muschiata Perché stavo dimenticando che potevo mettere anche del petrisco muschiato qui e là Infatti ho iniziato a metterlo Ne ho farmato giusto un pochettino E ora direi che qui e là metteremo un pochino di blocchi muschiati Giusto per dettagliare il tutto meglio ecco Ho anche già raccolto dell'erba con la nostra pala silk touch Così possiamo già far crescere i primi giardini qui sui terrazzamenti Per il resto ragazzi Per il resto è una costruzione che vi sta appunto piacendo Mi avete consigliato di adornarla con qualche blocco ocra Per ricordarle le costruzioni dell'epoca Inizialmente ho pensato di farla in sandstone Ma penso ed eravamo più o meno tutti d'accordo Che avrebbe stonato davvero un sacco sulla montagna Quindi l'idea è stata subito poi scartata Sempre per quanto riguarda il citazionismo ai veri giardini pensili Utilizzeremo anche dei blocchi di lapislazzulo qui e là Che devo probabilmente andare a farmare Perché non credo di averne così tanto da poter fare chissà quanti blocchi Però sicuramente una volta finito il tutto Andiamo a mettere anche qualche ornamento prezioso Per così dire Questa cosa che sto facendo sembra un pene Quindi aggiungiamo un blocco qui Anzi togliamo E finiamo di chiudere Purtroppo ho finito la cobblestone muschiata Vero? Sì Potrebbe essere un problema Devo andare a craftarne un altro po' In fretta e furia Mentre finiamo questi dettagli E poi tiriamo sull'ultimo piano E chiudiamo la parte strutturale appunto della struttura Vi volevo dire che ho letto i commenti appunto E in particolare modo mi hanno colpito un paio di commenti E uno in particolare che mi ha messo un'ansia pazzesca Perché in questo commento mi si diceva Una lista di idee Che ho proposto nel corso del tempo Ma robe anche vecchissime E che per un motivo o per l'altro non abbiamo ancora cominciato a fare Oppure sono rimaste appunto idee Non sono state sviluppate Quindi Eren Perché non stai facendo più questa cosa che hai detto? Perché non stai correggendo più le mura? Perché non hai fatto l'altra torre qui in mezzo? Eccetera eccetera Ragazzi quando io vi propongo un'idea Penso sia un concetto abbastanza chiaro Comunque lo ripeto per sicurezza Quando vi propongo un'idea Non è detto che quell'idea Venga fatta Venga messa in azione Perché io ve la propongo Poi Mi rifaccio anche ai vostri gusti A quello che volete voi A volte capita che l'idea Non piace alla maggior parte di voi E quindi viene scartata Altre volte magari spunta un'idea migliore Per cui C'è una scaletta di priorità E quell'altra idea Non viene realizzata Prima del tempo Un esempio che Appunto in questo In questo commento lista Mi è stato scritto E che effettivamente è una cosa Ragionevole in quel caso Era il villaggio sotto il Jackdrasil Ricorderete che avevo promesso Un villaggio ai piedi del Jackdrasil Perché non l'ho ancora fatto Essenzialmente Era una cosa abbastanza impegnativa Fatta in un periodo Che non mi ricordo bene Qual era Ma Credo che Ero molto impegnato A pre-registrare i video Per cui semplicemente Ho perso di vista La cosa E poi abbiamo iniziato appunto A fare cose più importanti Facendo cose più importanti Quella che era solamente Una piccolezza estetica È rimasta lì in cantiere Quindi non l'abbiamo mai sviluppata E questo mondo è talmente enorme Che ci sarà sempre Da qualche parte Un cantiere aperto Da sviluppare Significa che non lo faremo mai? No Significa solamente Che ci sono priorità La parola è Priorità ragazzi E per esempio Adesso la priorità È questa Perché Me l'avete chiesto voi Avevamo fatto un sondaggio E tra le varie idee Questa dei giardini pensili Era la più votata Oltre la farm Di Charged Creeper Che abbiamo già costruito Che si Deve ancora Dempire a suo scopo finale Però Intanto Abbiamo dato priorità a questa Poi a questa costruzione E quando avremo finito Andremo a vedere Anche le altre varie idee Ve le riproporrò Faremo altri sondaggi Eccetera eccetera Vedremo Che cosa salta fuori Ora Me ne manca ancora una Mannaggia a me Che mi ho fatto male i conti Pertanto ragazzi Eccoci qui Tappiamo l'ultimo buco Qui abbiamo messo Tutta La pietra Con il muschio Per finire Questi dettagli Qui perché c'è Un unico pezzo Di terra volante Non lo so Per il momento Lasciamolo lì Anche perché poi Sotto dobbiamo fare Tutte le fondamenta Quindi Fondamentale Per ora invece È prendere L'erba E andarla A mettere Un po' Qui e là In modo da far crescere Già i giardini Questi vari giardinetti Che stiamo preparando Conterranno ovviamente Fiori Quindi Ornamenti Ma poi Questa struttura Dovrà essere dotata Anche di farm Quindi per ora Ci limitiamo a mettere L'erba Poi Metteremo anche Per dire Il micelio O il pozzol Perché sicuramente Una cosa che voglio Farmare qui dentro Sono i funghi Una farmettina Davvero piccola Ma giusto per averla Una farm di funghi Che tra l'altro Ne avevamo una Qui sotto Ma l'ho dovuta Compromettere Per fare la stanza Quindi per questo La volevo spostare Quindi nel mentre sicuramente Dovrei trovarmi Un modo più efficace Per salire qui sopra Andiamo a prendere I muretti Che ci avanzano Tra l'altro Ho più muretti Di muschio Che muretti normali Nel momento Il che è davvero strano Comunque andiamo Come abbiamo già fatto prima A intersecarli E a mischiarli In questo modo Ricordando che poi Comunque Andranno messe Anche le colonne Quindi intanto Facciamo così Ma poi Andremo anche ad aggiungere Le ultime colonne Per l'ultimo piano Della struttura Quindi ragazzi Ho fatto altri pilastri Andiamo quindi Ad alzare Questi pilastri Come sempre Uno Due E tre Blocchi Di altezza E poi Andiamo a richiamare La stessa cosa Qui E qui Quindi uno Due Tre E da questa parte Potrei farlo anche Dietro Quindi lasciare Magari più aperto Davanti E dietro E invece fare Anche quello centrale Non so Non so sicuro Per la vista scelta Anzi Probabilmente Questo qui lo togliamo Ci limitiamo a farne Tre nei lati Che dite Beh Secondo me si Quindi facciamone tre In questo modo Poi dobbiamo prendere Di nuovo Questi blocchi Con i mattoni Saliamo ancora Di un blocco E poi andiamo Andiamo a collegare Il tutto Con mezzi Blocchi Scale E quant'altro Per richiamare La solita struttura Che abbiamo fatto Anche sotto E per finire Ragazzi In cima Madonna Sono caduto Di nuovo In cima Stavo dicendo Possiamo andare A chiudere Con un giardinetto Quindi andiamo a prendere La terra E l'erba E andiamo a Chiudere Il tutto Così Quindi facciamo Il giardino finale In cima Alla struttura Che non dovrebbe essere Per niente male Come cosa Poi ovviamente Chiudiamo anche qui Con un giro Di staccionate Miste Dai due colori E poi Abbiamo praticamente Fatto Dobbiamo solamente Occuparci Dei giardini Qui E di Nascondere Questo Questa terra Che si vede Quindi qua Metteremo delle scale E quindi ragazzi Dopo svariati tagli Una trentina Forse di colpi Di tosse E un tre fazzoletti Caduti in guerra A causa influenza Ecco Che ho Completato La struttura Dei nostri Giardini pensili Tra l'altro L'erba è già cresciuta Penso A parte quella zona lì E un quadratino Qui sotto Quindi siamo pronti Per iniziare A decorare Almeno la parte esterna I giardini pensili Devono essere Rigogliosi Pieni di natura Ovviamente Metteremo anche Dell'acqua Non appena Capirò come Giustare i contenuti Mettiamo anche quella E Per prima cosa Però Vorrei andare A provare Quanto meno A mettere degli alberi Perché Una cosa davvero interessante Sarebbe E mettere degli alberelli Sui terrazzamenti Il problema Gli alberi Sono molto grandi In minecraft Rispetto a Una struttura normale Quindi vediamo Che alberi Riusciamo a cacciare fuori Andiamo a prendere Degli erbocelli Magari facciamoci una dormita Tra l'altro Prima che mi dimentichi Luciano E per fatto Non me li sono dimenticati Dall'altra parte Del portale Sono venuti Con noi Il problema È che Semplicemente Stanno facendo Un giro Stanno Familiarizzando Con il mondo Quindi Se non li vedrete Per un po' È quello il motivo Non è assolutamente Dato dal fatto Che Essendo che In realtà Sono due personaggi Di roleplay Devo catturare Un gatto Un cane Darli collari Portarli qui Eccetera Eccetera Assolutamente No È solamente Che stanno facendo Un giro Detto ciò Ho preso Gli erbocelli E tutto quanto Quindi andiamo qui E andiamo a mettere Esattamente Un albero Qua E un albero qua Secondo voi Riusciamo a farli crescere Vicini Senza che siano enormi Andiamo a scoprirlo subito Facciamo crescere Con la bone meal Un alberello Ma potrebbe anche starci Altro alberello Andiamo dall'altra parte E mettiamone Altri due Poi ne metterò Anche uno in cima Al centro Così giusto Per completare il tutto Questo è uscito Un po' basso Questo relativamente alto Il fogliame Che hanno È molto molto carino Quindi da questo punto di vista Siamo abbastanza tranquilli Ora vediamo Se riesco a ender Perlarmi direttamente Qui sopra Senza fare troppi drammi Vediamo un po' Perché non ho voglia Di fare scale Rovinare il paesaggio Per salire Mi sa di no Ok Dobbiamo fare una scala Quindi facciamo crescere Anche quest'albero Centrale Che cosa ne dite Bam Quercia Fatta E direi di Fuggire un attimino Da qui sotto Perché sto già facendo Un macello Ho fatto anche un buco Nelle foglie E vabbè Lasciamo un attimino Così Rimettiamo a posto Quindi Questo E rimettiamo a posto Questo qui E ragazzi Andiamo a vedere Un attimino Dalla distanza Se ci piace Mettendo altro fogliame Che ci siamo Cerchiamo di Cerchiamo di finire Questo piano Con qualche colpettino Di bone meal Nei giardini E poi Mi sono portato Questi due fiori Per dare quel tocco Di colore Che potrebbe mancare Quindi andiamo a piazzarli Un po' A muzzo In questo modo E in teoria Il giardino E anche bello rigoglioso Qui al centro Non so ancora bene Cosa fare Però Torniamo Ovviamente Magari sul granaio Laggiù Se riesco a prenderlo Non l'ho preso mai Vediamo ora Sì Perfetto E guardiamo un po' Come è uscito Beh È bello pieno È bello pieno Non è male La cosa forse Che mi turba È quell'albero lì Cioè l'albero al centro Non so Se ci stia bene Ok Continua a felare Sì Ho felato ancora Mentre qui possiamo vedere Che per ora La struttura È una scatola Volante Ma questa volta Questa cosa verrà mascherata Cioè non rimarrà così Come la fanno di prima E andiamo a togliere Però questo albero Perché mi dà Una brutta impressione Non so bene perché Gli altri vanno bene Questo qui no Forse è troppo centrale E non deve essere centrale Un albero In questo progetto Bensì La costruzione in sé Forse Non è Non fa quella simmetria Che fanno questi alberi Che stanno da una parte E dall'altra E creano equilibrio Non lo so Comunque non mi piaceva Qui sopra potremmo metterci In realtà varie cose Potremmo metterci Una fontana Dalla quale sgorga l'acqua Che facciamo passare In tutta la struttura Possiamo metterci Banalmente Un giardinetto Facendo così Non appena crescerà Anche quest'erba Possiamo piantarci Dei fiori Possiamo Metterci una statua Insomma Abbiamo varie soluzioni E per il momento Direi che Lasciamo così E vedremo Poi Come esce il tutto Quindi voi che cosa ne dite Per ora Vi sta piacendo Sì No Cosa cambiereste Cosa aggiungereste Come chiudereste Il tetto Fatemi sapere un po' Di vostri consigli Ragazzi Io per adesso Mi sa che chiudo la puntata Sia perché ho bisogno Di racimolare Nuove idee Sia perché Devo aggiungere dettagli Come per esempio I blocchi Cracked Che non ho messo Ma che qui e là Andrebbero messi Tipo Qui nei pilastri Possiamo tranquillamente Metterne uno Ogni tanto E poi Quello che dovrò fare Probabilmente farò Off camera Perché non so Se avete voglia Di vedere Una roba del genere Sarà andare Qui sotto Dove vi ho appena Fatto vedere E togliere Questo effetto Svolazzante Quindi cosa posso andare A fare Posso creare Per esempio Un arco Di terra e pietra Che chiuda Da una parte All'altra La montagna Oppure Cercare di ricavare Un piano sottostante Per avere spazio extra Comunque Ovviamente Così non può restare Perché è davvero brutto Fatemi sapere ragazzi Io spero di tornare Al 100% presto Perché Questa influenza Mi sta davvero Tirando Assolutamente A terra Sono abbastanza Stanco in questi giorni Quindi Sto cercando di Darmi da fare Senza esagerare Mettiamola così Intanto ragazzi Datemi tutti i vostri consigli Io vi aspetto Quindi un saluto Da Eren Blaze Ciao a tutti